Mi trovo a votare in dissenso. Lo faccio adesso come l'avrei fatto se al posto di Gualtieri ci fosse stato Tria e se mi avesse portato una manovra scritta da Bruxelles. Io non sono stato eletto per tenere gli italiani imprigionati nella gabbia di un bilancio imposto dall'Europa. Questo no. Non abbiamo bisogno del permesso scritto dei burocrati di Bruxelles per difendere gli italiani. Vedete, il 4 marzo del 2018 una maggioranza importante di italiani ci ha chiesto di rompere quelle relazioni che costituiscono il sistema di potere. E quella maggioranza lo ha fatto con un'arma potentissima, che è il voto democratico. Si chiama democrazia, quell'arma. Un esercizio di palazzo ha portato gli sconfitti di allora al governo, la Costituzione lo permette, però il popolo che chiedeva un riscatto non permette nessun gioco di palazzo per cambiare il senso della storia. Vedete, questo governo non è stato nemmeno in grado di intervenire sulle bollette degli italiani. Altro che New Green Deal, chi sta attento al consumo di energia a casa non viene premiato nemmeno di un euro. E queste, secondo me, sono battaglie che inciderebbero e come nei bilanci di tutti gli italiani. Il 4 marzo questa maggioranza importante di italiani aveva chiesto e ha chiesto al Movimento 5 Stelle di caricarsi sulle spalle una rivoluzione di sopravvivenza, perché il potere stava spaventando le vite delle persone, i diritti dei cittadini, le libertà di migliaia di donne e di uomini. Il Movimento 5 Stelle vinse le elezioni parlando di politiche espansive e avevamo ragione. Qui ho sentito elencare i 32 economisti. Bene, dopo quell'elenco fatto in quest'Aula, gli stessi 32 economisti hanno detto Peccato che la sinistra, alla quale ci stavamo rivolgendo, non abbia preso in considerazione il nostro appello. Bene, questi 32 economisti ci dicono, una volta per sempre, una volta di più, quanto segue. La performance economica dell'Eurozona è stata in questi anni tra le peggiori nel mondo e in vari Paesi sono sempre più frequenti le manifestazioni di protesta per l'aumento delle diseguaglianze e la crescente incertezza dei cittadini per le loro condizioni di vita. Senza un cambiamento profondo, a partire dalle attuali proposte, l'Unione Europea rischia di non avere un futuro. Vogliamo prendere in considerazione l'appello di questi economisti keynesiani? Ecco, siccome io qui, dentro questa manovra, non trovo alcun che di esqualsivo, provo e chiudo ancora una volta una logica che è quella della gabbia di Bruxelles, purtroppo dovrò votare no. Grazie.